A quanto vibra sto cazzo di controller No aspetti provo a staccare la batteria per 5 minuti Che cazzo Sento le formichine Sento le formichine Aspetti 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 Si fidi sono un tecnico adesso sarà sistemato guardi Et voilà Ma vibra ancora va Gioca così gioca così assistente gioca così Salve a tutti sono DeLongamer e bentornati su Caped Perché l'avete chiesto in tanti perché siete persone veramente sadiche Ma porca di quella porca E anche oggi siamo con l'assistente Che l'assistente Tazza assistente dove cavolo è la mia tazza assistente Mi esca fuori assistente cortesemente Non ci sono Lo sai che se clicco qua comunque lei viene spawnato qua Non è giusto Ah ecco ma meno male meno male Allora abbiamo fatto schiferri Ma non è vero mai Ma se per una cosa Dica Siamo dei cretini No lo so perché potevamo giocare a tante altre cose No Cos'è Ma no ma come ma dove Sono scoperta per caso Ma no ma come Sono una tazza deficiente No siamo una tazza veramente deficiente Allora vediamo oggi quante figuracce riusciamo a fare in Caped Porca di quella porca di un'ora ci hanno traumatizzato i corsi episodi Anzi lo scorso episodio Allora dovremmo recuperare un po' di monetine per acquistare nuovi poteri Che ne dici assistente Sì perché tu mi hai fatto comprare Andiamo avanti Olè running Perfetto Cosa potrebbe mai accadere Che non mi ricordo i tasti Nemmeno io pensavo la stessa cosa C'è sempre la nostra clessidra tossicodipendente Mi piacciono i corsi Ah che devo andare le droghe per un secondo Mi si spiegherebbero un po' di cose Caffè No Caffè no Allora non conosciamo la mappa Andiamo con calma Allora aspetta aspetta Facciamo una cosa di trisendere Sì che Ok ora mi ritorno Ah più o meno Più o meno Cosa Non si può sparare a sti cosi Aspetti Perché c'è No sto già morendo male Andrà malissimo Questo è un bucco Non l'avevo neanche visto onestamente Ah e loro ci finiscono ok Vada piano che c'è un maledetto picchio Ah ti picchio No Sto già morendo male Cosa fa Come hai fatto È la rosa Ah non l'avevo visto Se sono dal tonico c'ho la scusata Non l'ho visto Ah Andiamo cominciato talmente tanto bene Aspetta Aspetta Ok petta No c'è troppo Si muovono No Devo ricordarmi i tasti Eh beh eravamo a ben un terzo Eh beh ben un terzo Non è male Andrà malissimo Accettiamo la Sono un coglione Non sono il primo a dirlo Io sono un coglione L'ho saltato L'hai saltato tu Qualcuno l'ha saltato Ok No no Ok qua c'è il buco Aspetti che passa quello rosa Non me ne frega se è rosa Io sono Ah No non l'avevo visto Cosa Aspetta Aspetta Scusa ma non possiamo tipo far Così Oh Oh Sono morto Ho fatto la cosa fai Che poi sono morto male Sì ma non ce la farò mai Con calma Con calma Whip Sono morto No no non dico nulla Era niente La coordinazione Io la coordinazione No aspetta Lo aspetta No ma dai Oh no è ripartito il bug della vibrazione Davvero Aspetta aspetta Questo bravo Preto 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 Mi libro tutto Un po' è piacevole Aspetta Aspettami No pensavo di aver più tempo Sei un coglione Abbastanza Me lo dicono i molti in effetti Fatto cazzata Fatto cazzata Mi piace come moriamo sempre in coppia Però siamo andati un po' più Quasi a metà Quasi a metà Che vuoi Preso Preso C'è un finta di nulla Andiamo avanti che è meglio Non so perché prima ha funzionato Troppa gente che salta Ok stiamo attenti Agli insetti Che mi fanno schiferimo Buono Aspetta Dobbiamo saltare qui Venga Aspetta c'è un momentino Ok la seconda era qui Attento Aspetta È pieno di insetti schifoserrimi No morici malo C'è c'è un albero col naso Come accade sempre in tutti In ogni foresta Aspetta Aspetta Ok Ma spara le caccole Che schifo Si vergogni signore Non mi muore l'ultimo Mi sa che la base non muore Aspetta Oh non posso tagli sopra No aspetta Non salire troppo Aspetta 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 Ok Mi sono fatto però del panico Mi dispiace Sono mortifico terrimo Aspetta Non lasciarmi giù Porca miseria Non ti stavo lasciando giù Aspetta 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 Spara di cotto Spara di cotto Aspetta Aspetta Ok Ok No Ti salvo Ti salvo Alla sopra ci saranno Andalo lì Andalo lì Ok presa Ok Va tutto bene Va tutto bene Non è panico No aspetta Ok pronto Ok Ah no Mi dia un secondo Mi sto dimenticato Che si può saltare Che così Che salvataggio assistente Che salvataggio assistente Facciamo schifo No facciamo schifo Diciamo che siamo diversamente abili Ah Insetto Aiuto Aspetta Non mi faccia prendere panico Aspetta 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 Ah non muore Ah muore Aspetta Ok insetto Buono Buono Ci mancano ancora un po' di monetini Abbiamo Mi mette l'ansia C'è paura Ciò cago C'era un insetto Era differente Il mio insetto era differente No cosa ho fatto Sbagliatissimo Tasto Tento 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 Siamo morti Io sono caduto Come hai fatto Io sono caduto di sotto Lei Non c'è affitta Di nulla Vibro di nuovo Sentite come vibro Vibro tutto io Ok Non è caduto Non è caduto Ok Non vi facciamo vedere Quante volte abbiamo rifatto Staparte Perché è solamente È la primissima Ecco appunto Neanche detto Cioè ero riuscito finalmente Ad arrivare ad un punto Senta Ti odio Ti odio Mi sono fatto prendere dal panico Quando parte il commento Riparte anche le minchiate che faccio Te Insetto schifoso Eravamo andati abbastanza bene Per la prima volta Ok qua c'è l'albero cattivo Cattivo Petti 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 Potrei essere morto Sto arrivando Un attimino Grazie Molto gentilo Ok Ora abbiamo stare attenti agli alberi Vetta 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 Io sparo l'insetto Tu spari all'albero Ok Abbiamo un HP Abbiamo un HP Cosa potrebbe mai andare storto Tipo questo Salvami Salvami tu adesso Ok 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 Va tutto bene Va tutto bene Mi sa Vado io si fidi Oddio cos'era Ok la moritina l'ho presa Ma mi sono caccato Allora Una alla volta Una alla volta Con molta calma Lei salga sul bastoncino Poi ok Vada vada Ah vado io Eh si prima Prima gli assistenti Oh mio dio No mi cacco Mi sa qualcosa saltare Aspetta Ma no Ma perché ho detto A saltare insieme Non lo so Qui è un po' fetente La parte No Ok No vabbè Perché c'è così tante Foglie o paura Perché siamo in tanti Ok 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 Ma ho Troppa ansia Pronto Ok No 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 Come taggravamo un po' Sei ancora vivo Come sono Cos'ho fatto Non lo so Eri ancora vivo Non so come è successo Non so come Il buco Di culo Imane No No Ok Assistente non muoia Assistente non muoia Non mettermi ansia allora Fa tutto bene Te l'ho detto che era Vento Non mettermi An Tutto bene Sia Ok Un Due Tre Quattro Cosa Addio è un boss Ok ok Oh È lui che distrugge i cosi No è lui che fa Adesso non ci sono i cosi Che arrivano da sotto Ma È il boss Che ce li butta giù Aspetta Ti odio Ti odio tanto Aspetta Cos'è fa Ah Da dove No mi sono vado a prendere dal panico Ok a posto A posto A posto La vengo a salvare La vengo a salvare Non si preoccupi Aspetta Come non sia accaduto niente Va 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 tutto bene A me vibra tutto Sto a parte mi fa panico Adesso 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 Torna indietro Ok Ok L'ho fatta senza sbagliare C'è qualcosa che non va dalla mia vita Adesso Ok Ok Qua c'è il boss Ok Dopo 70 minuti Siamo riusciti a tornare Allo stesso punto con abbastanza vita Eccolo Buttagli tutto Buttagli tutto Aspetta Aspetta Ho fatto una stonzata Aspetta Forse l'ho colpito di qualcosa Aspetta Aspetta Bastardo Tornano Ok 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 Ritornano dopo un po' Dobbiamo solo evitare che pigli i nostri insetti Ok No Stronzo Arrivo Aspetta vai vai No 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 è morto anche lui Faccio affitto di nulla Ce la possiamo rifare Aspettante Ah Bello di essere tornati su K Aspettante Vero Bellissimo Venga assistente Questa volta ce la possiamo fare Ok Ok Uno sopra Uno sotto No Se stiamo sopra in teoria Cadiamo di sotto Quindi ci salviamo Ok Andiamo sopra Aspettami Non arriva il signore Aspetta Vado sotto Si becchi tutto il mio schizzo Il signore ha gradito il mio schizzo E spari 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 Uh Anche lei schizza Sì Schizziamo tutto No 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 Cattivo Cattivo Ok No Ci muore Ci deve morire stavolta Ci deve Ah Morir male Ok 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 È morto Malissimo Arrivo assistente Vita Dobbiamo andare là Mi arrischio io Mi arrischio io che ho due di vita Ok Ok Sì Siamo arrivati No Non ci credo No Quanto è Quaranta minuti assistente Quasi quaranta minuti Io ho fatto il tempo a morire Ho fatto il tempo a morire Che gentile assistente Ok Mai più Sì Quei monetine stacciola Abbiamo i traumi Allora L'altra volta abbiamo acquistato cose Che non ci sono servite più di tanto Beh il suo potere della Cosa fumogena non è niente male Io No no Ma io devo avere la vita in più Perché faccio schifo Sono troppo chiavica sto gioco Piro Io voglio questo Cos'è Allora Quello è lo Ah quello che spara tre colpi Però al coso ridotto Ah Ah Potrei rischiarmi anch'io In effetti Se no vai a quello che mira Questo Con te forse è meglio Questo mira in automatico Però potrebbe mirare chiunque Potrebbe essere un problema Perché se ne frega Il boss è sempre lo stesso Il boss Per i boss in effetti Ok Ok allora Lei schizza tanto da vicino E io schizza Il mio schizzo raggiungo già qualunque cosa So che mi hai detto che con il Con il cuore Perdo un po' di danno Ma ragazzi Sono troppo chiavi Io Abbiate un po' di comprensione Allora Credo che ci manchino Due avversari Cosa vuole fare? Sono due sono Mi sono perso Mi era perso Il daltonico sono io C'è un dado là sotto E dei fiarellini Guazzapra Voglio andare là Ci sono le caramelle Ma a me sembra un culo Ma vabbè non importa Sì ci sono fiori Perfetto Che bello Che bello Poi in autunno Poi la stagione è più adatta Allora Vediamo un po' cosa c'è Ho paura O geni Ma è pucciato Non è puccioso e adorabile Ho paura in te Io resto qua sopra Oh Bello il tuo coso Aspetta No 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 Non lo so Oh mio dio Ok Ok io sto sopra Io sto sopra Aspetta forse il prossimo attacco Oh cos'è No sto sotto Cosa spara? Aspetta Aspetta quella che va fatta col salto Aia cosa mi ha preso? Mi ha preso sono piante carnevole Ah non avevo visto Aia Aspetta Aspetta Forse è attaccata da sotto Me lo sentivo Ah salvami salvami Aspetta 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 Ok salvato Per fortuna che qua c'è tempo Ah cosa? Maleficus Aspetta che io posso sparare letteralmente dovunque? Sì Ah non è male Cos'è? Non lo so Ah ah Sono carote Sono come le carote Aspetta Aspetta Ok salvato Salvato Ah Sta succedendo Nemmeno io non ci capisco una ciolla di niente Sto cavolo di fiore sotto troche pesanti Ok siamo tutti e tu Vieni su vieni su No no sono le carote Ah 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 Salvataggio grazie assistente Ok ok Eh Parare le carote Aspetta Ti salvo ti salvo Non mi ha salvato No ti ho salvato Ok ok Vengo a capire cosa diavolo Come spara Qualche volta va Vieni da sotto Al volte viene da sopra Non so Cosa fosse mi salvi Che salvata Ah ah salva mi Eh Ok andrà leggeramente tutto bene Andrà Hai tanta energia Hai tanta energia Oh è vero è vero è vero Gli schizzo tutto Ok conta No bisogna Bisogna colpirgli la faccia Non lo sapevo Assistente come va l'oltretomba Benissimo Io gli sto facendo una marea di danni Si fidi Ti sta pigliando per il culo Credo mi stia sfottendo un attimino O non gli faccio per niente danni Quindi lui Non mi attacca No non ti attacca Ah ne possiamo parlare No sei incazzato Cosa E vabbè dai Non potevo conoscere il suo Vabbè dai Vabbè dai Però hai incazzato con la vita questo Abbastanza Borco cane Io odio i fiori Cos'è Cos'è No è cosa che salta Attento che arriva da sotto Attento che arriva da sotto Attento che arriva da sotto Ti salvo Ti salvo Ti salvo Prima o poi Ok 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 No perché No porca boia Non avevo visto che sta arrivando l'attacco Aspetta che vengo da sopra Perché c'è il fiori che fa Succamelo Aspetta questo Le noccioline Le noccioline Ma sono carotte Ah Cioè Siamo andati meglio la prima volta Guarda che schiaviche Sono calmo No 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 Io l'ansia proprio da Da delunghimi Ma non è vero Volemo se bene Aia Porco cane Non l'ho visto Di nuovo il bug della vibrazione No Assistente Non mi abbandoni Gli schizzo al signore Ah l'ho raggiunto molto subito Stiamo andando sempre peggio Cioè la prima volta Eravamo così alla fine E poi sempre più indietro Ce la possiamo fare Ok vi siete persi Un paio di turni Abbastanza imbarazzanti Ah qui è sotto No qui è sotto E sono andato sotto Ovvio che sono un pirla Ok 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 E sono di nuovo Che vibro Come ci fossero domani Aspetta qua sono le carotine Drogate Ok No qua c'è il fantasmino Strano C'è gli attacchi più strani Della vita Ah qua c'è parte La contraerea Ok ok Aspetta che c'è uno schizzo Tutto per lei Si pigli tutto Il mio schizzo Aia Ok aspetta Aspetta qua ci sono le piante Che ti mozzicano il culo Aiaiaiaiaiaiaiai No Aspetta 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 Ah no Quando Grazie assistente Mi perdoni Ok Non lo so Aspetta Non possiamo andare avanti Mi salva lei adesso Curziosamente Grazie Molto gentile È una giornata Abbastanza differente Fermami È una giornata Abbastanza differente Uccidi Quell'affare Mi salva Quando un attimino Grazie Molto gentile assistente Vuole che la salvo io adesso No Ok va bene Ok salti Io salto Almeno non ci capisco più una ciolla di niente Ok calma Calma Aspetta 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 Lo cambio alla volta Prima muore Lei poi muoio Io Ma Non ci capisco una ciolla C'ho i traumi C'ho i traumi ovunque io Ho fame Ho fame anch'io Ok 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 Cosa non li ho visti Non li ho visti Aspetta Ah no I fiori rosa Si può saltare Non questo Ok ok Appena riparto Col commentary Mi faccio prendere dal Panico Ok Questo l'ho saltato Non si sa come Cos'era Che attacco ha Figo un attacco Aspetta 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 Mi pagano i controller Ah vibra Sì Salvovi Non ricominciamo Non ricominciamo Ah Mi salva lei adesso Corziosamente Aspetta 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 No qua Adesso va tutto bene Va tutto bene Il doppio fiole Adesso morirò io E resterà lei da sola Assolutamente Arrivederci Bellissimo Mi piace No sul primo no Ma sul terzo mi piace No Guardi a quanto Guardi quanto mancava Ce eravamo quasi Il nostro bug era differente Vibra ancora? No Non vibra più Almeno quello Che belli i fiori La natura L'autunno Perché sono qui Perché abbiamo giocato a Capped Ripetti Mi ha spaventato il suo attacco Ok 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 Saltiamo di qua Buono Io ritorno indietro Buono Buono No non l'avevo visto Porco cane Di qua Aspetta che glielo schizzo tutto Glielo schizzo tutto Come piace al signor Fiore Ma che stronzo Ma che stronzo bastardo Che poi Mi sa che i miei attacchi Non fanno una ciolla di niente Ok 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 Ah no No Cattivo fiore differente Vieni No mi sono morto io Ma non importa Ti è buono Non mi faccio dire Anzi Tranquillo tranquillo Va tutto bene Va tutto bene Va tutto bene Porca boia Ok Ok Va tutto bene Tutto bene Tutto bene Si pigli uno schizzetto Ho caduto io di sotto Come un povero pirla Ci vogliamo bene C'è pace e amore nel mondo E siamo morti di nuovo A un centimetro dalla fine No vabbè dai Mi prendi per il culo Allora Mi prendi per il culo Oddio Cosa è successo Non lo so Sono la pagina extremis Via da lì Sto vibrando tutto Porti pazienza Aspetta 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 Che c'ho lo schizzo C'ho lo schizzo Precoce Aspetta qui Non resto qui Perché porco cane Aspetta io posso attaccare Dove mi pare Quindi non mi giro neanche Ok Perché No No Ne possiamo parlare Ne possiamo parlare Siamo alla fine di nuovo Vero Non ci credo No 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 Mi licenzio dalla vita Mi licenzio dalla vita Tutto bene Ce la pace nel mondo Più o meno Più o meno Più o meno Ok 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 Va tutto bene Salvato Va tutto bene Guardi Non mi sono salvato io minimamente Aspetta Però lo schizzo Tutto 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 Ok Ok Au Ok salvato Vibra 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 va bene Vibra Vibra vabbè Morto Ok dai Oh mio dio Non ci credo Assistente la sento vibrare No 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 Non mi tocchi lo ieti Con quella cosa lì Ma quanto vibra Ok Ma basta Mi si è disconnesso l'assistente Non vibra più Non vibra più A posto Ok Quanti Quanti Quaranta minuti Si ricorda quando avevamo una vita sociale Non l'abbiamo mai avuta Vibra ancora Vibra ancora Ma che palle I bug Questi bug Vibro Vibro Ma perché Ma non ha senso L'abbiamo resettata Allora proviamo ad entrare in partita Magari si Si sistema Vibro Sembra di essere Cos'è Buongiorno signor Buongiorno anche te sotto droghe pesanti Salve No no Portaci il caffè Vibro No no Ci abbiamo l'assistente che vibra E lo sono disse È il vostro super potere Vibrate all'improvviso Oh non lo sapevamo Davvero A me non piace vibrare Imparerete a vibrare come vostra nonna Era una donna eccitatissima Ma soprattutto Ricaricate le batterie del vibratore Se no saranno cazzi in mani Ancora che vibra l'assistente Vibro Non so cosa fare l'assistente Mi si scarica il comod Dove siamo Guardi che bel posto per vibrare Cioè per divertirsi Quico qua No Quico qua sotto droghe Vuole la piramide Vuole la piramide Piramide mi ispira a tanta fiducia Aspetti Cerco di farvi A quanto vibra sto cazzo di controller No aspetti Provo a staccare la batteria per 5 minuti Che cazzo E poi no Sento le formichine Sento le formichine Aspetti 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 Si fidi sono un tecnico Adesso sarà sistemato Guardi eh Et voilà Ma vibra ancora Gioca così Gioca così Assistente gioca così Mi si è staccato il mio No prima il bursante Ancora che vibra Allora entriamo in partita Sicuramente andrà bene Ha smesso di vibrare No vibra ancora Cos'è stavolta Oh guardi che bello Possiamo cambiare arma Come abbiamo Il genio della lampada Oh è vero posso lanciare No aspetti aspetti Dove sono io Ah 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 Mi lanciano le cose E io ti lancio i porchi Aia Sì vabbè Sì vabbè Mi tirano le forchi Il signore è un po' stronzo Scano che è uno di quei venditori Che trovi ai lati delle strade Ah l'ho morto T'ho morto anch'io Però hai messo di vibrare Ah vede Abbiamo fatto benissimo Proprio il primissimo turno Proprio un capolavoro Vabbè vabbè ma io All'assistente piacciono le vibrazioni Allora No ma aspetta Ci sono due pietà C'è una bomba Una bomba è differente Adesso ci lancia cose differenti Ha visto Ah mi lanciano le spade Mi lanciano le spade Au Assistente Assistente è cominciato benissimo Ok 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 Ah 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 Che bello essere No vabbè La difficoltà è aumentata Sono un po' morto Sì ti lo chiedi Sono ancora nella fase Nella fase che vibra Nella fase che vibra Non si ripresa la vibrazione Petti Ahia ahia sono morto Sono morto Ok la prima l'abbiamo sconfitto Qua qua sotto sotto Facce 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 da chiurlo Pettate Le l'ha messo Petti metti metti Eh vabbè ma se mi muore verso destra Mi muoia verso sinistra Ok Adesso ci caliamo Circa un quarto Adesso ci caliamo Sono calmo sono calmo Sono in pace col mondo Om namashiva Om namashiva Scusa mi sono perso Mi bravo Ora io Io bevo acqua per dimenticare Non mi posso permettere gli alcolici Mi ritirano il patentino di youtube Per guidare gli aerei Cos'è cos'è Aspetta forse all'inizio ci dice Cosa sta per arrivare Ah a seconda Cosa No vabbè No sono troppi oggetti L'ho preso Sì La prima volta che lo prendo No non ho detto così Era amico L'ho ripreso Cucati tutto il mio missile Ahia Assistente no Non mi muoia malo Sono morto io Ho guardato te L'ho detto Stanno bellezze ma Oh l'abbiamo già fatto sparire Sopra 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 Ok Io continuo a sparare Aspetti Le lame Le lame Le lame Si sta Mi sono schiantato Sulla torre lì Ho sbagliato Oh io ho sbagliato gioco Ho sbagliato gioco Guardi Se le vibra mi faccio un paio di risate Ok vediamo stavolta cosa mi tira fuori No se per robe brutte mi fuma il signore È anticaffè È anticaffè Mastardo Io ho lanciato Io ho lanciato porchi che non avrei dovuto lanciare Assistente Salvato Salvato Dov'è Ok venga giù Venga giù Non posso Aspetta Mi salva quando ho un zaga Sempre peggio noi due Ho questo episodio disastroso Non lo so Lo sto contagiando Sono deconcentrato in una maniera No 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 È la mia sfiga che l'ha contagiato Ma fa l'ha finito Il caffè è buono Aspetti Au Io passo da sotto Sono anticonformista Sopra 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 Rivo 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 A metà Più o meno Au Dove sei Non si schiatti Che salvataggio assistente Cos'è Nella terra di Ali Un centimetro è così Mi sono spaventato Ho lanciato missili Quando mi spavento Di solito lancio anche po' No 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 Cos'è No Perché mi lancia le mummie il signore Cos'è Ho paura Ma c'è un signore Stia giù Stia giù di solito Così se moriamo Ci sono anche le palme che rompono la ciolla Aspetti Aspetti No va tutto bene Va tutto bene Vedi Guardi signore Cos'è Sono morto perché urlava Ok il mio assistente urla in maniera differente Aspetti Aspetti Perché signore non si muore Signore Ha rotto la ciolla Se ne va Vedi Vedi che se ne va Tutto bene Aspetti 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 Traumatizzato male Che fa Cos'è No 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 Che fa Si è acceso una lampadina Che cos'è Cos'è Pinocchio Abbiamo trovato Pinocchio Non so Pinocchio Vai via Non sono tuo padre Non sei un bambino Cos'è Pinocchio No Pinocchio non me lo ricordavo così Oddio Oddio Ah Servi Ho sbagliato Ho fatto una stracciata Ho fatto una stracciata Ah No Ho fatto una stracciata anch'io Adesso mi diverto dall'oltre tomba Ah Ah Cos'era Dove eravamo A metà Cosa fa Non sbatta la testa Avanti Un bel faccino assistente No è da panico questo Che bello questo secondo mondo eh Dove cazzo sono Non lo so Non so Mi stai attaccando le malattie Non sono malattie Questi giochi Mi sta tirando le cuffie Questi giochi per me dovrebbero essere troiate Io ci gioco da una vita Mi stai incontagianti Non è vero Avanti si plane Va tutto bene assistente Va tutto bene Ho rovinato gli assistenti Come rovino io gli assistenti Avanti Respiri Respiri No ho fatto una scoreggia Non respiri Respiri dopo Ricominciamo Quel coso sorride Ah è un cappello che sorride Il mio cappello è sorridente Ok ok Cerchiamo di fare un po' meno cagate Ci vediamo tra un'ora di sto passo E tre tentativi dopo Riuscivano ad arrivare con pieno HP Ok Allora sta pochetta è la parte un po' stronza Questa è la parte un po' stronza Sta lanciando missili assistente Oh è vero Mi lo dimentichavo Beh ma i missili fanno strano Ah 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 Ok Sì ma il suo signore Pigliarlo è impossibile Vai di missili Vai 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 Preso Preso L'ho preso L'ho preso Anche l'ho preso No era un po' ambigua Si sente Ci sono i bambini che ascoltano Ah 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 Ok non lo dico più Buono Buono Abbiamo mandato via Ora arriva Pinocchio 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 Si sente c'è il coso pieno eh Quando vuole schizzare un paio di bombe al Pinocchio Ok ok Cos'era Cos'era Nooo Nooo Andrà tutto bene assistente Si fidi Sono uno youtuber professionista Ok ok Pinocchio dovrebbe andarci giù Pinocchio Vai a fan club Vai a fan club Pinocchio Sto cercando di tenere il coso per l'ultimo Ok Arrivano gli illuminati Aspetta Sparagli subito la bomba Prima che arrivino le cose In teoria No muoreci malo Non vedo dove cavolo siamo Ah ok 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 Stiamo bassi Attento a questo Attento Camper perché ce l'hai come Ok ok Dai non è male Dai non è male Dai non è male Ah si sta Ok aspetta Si apre quella bassa Aspetta Aspetta Ok Buono 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 Vieni a vedere quale Oh mio dio ce l'abbiamo fatta Schifoso genio della lampo di Aladino Quella vedete una faccia da cazzo Non è caso eh Assistente Si riprende avanti C'ho l'assistente sconvolto malo malo eh Voi non vedete la faccia dell'assistente E' effettivo un Ah Ok dai non siamo a timare Su Vede tutto il mondo è contento A parte qui qua qua Che li vedo un attimino Come lo zio ha cominciato a sniffare di cocaina Questa è la faccia Vabbè Ah No assistente Mi parli assistente No questo posto non mi piace più Cos'è No non ci voglio Ma ci sono i cosi dell'amore No Venga Cos'è Oh lo scioppone Ah non abbiamo monetine vero No povero Allora il mausoleo di solito ce lo facciamo in fretta e furia E ci dai super poteri strani Super poteri cosi Mi è partito un polmone male Siamo le super picche Ah come quell'altro Come quell'altro Siamo professionisti Ehi e no no Ok io faccio fuori quelli Ok stavo già cazzando Stavo già cazzando non si preoccupi Oh oh a doppio adesso Oh no Oh no Petti petti ok Facciamo che sto io dietro nel caso Arrivi uno doppio Ti devi stare sempre a subito No era fraintendibile Mi perdoni assistente Non volevo intendere quel dietro Signorina venga fuori sicuro Ok Vorremmo aver fatto qua Cos'è Non lo so Cos'è Non lo so Aspetta 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 Gira tipo a coso Gira tipo a coso A spiralo A spiralo No l'ho visto Ok ok Aspetta 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 Io provo a far fuori i signori Qui Quattro cazzata Non è un problema Non è un problema No no Aspetta aspetta Preso preso Perfetto 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 Siamo andati bene Primo colpo Cioè almeno questo Facciamo fare pure il primo colpo Vediamo chi è morto stavolta La signorina mi continua a morire Sì 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 Grazie Molto gentile Ci dai poteri Fai Mi hai dato il caffè decaffeinato Bastarda No Mi voglio il caffè normale No vediamo cosa c'è Vediamo cosa c'è Ma magari sono cose buone Ora diventiamo invulnerabili Per un piccolo periodo di tempo Non è male Visto quanto schifo facciamo Non è malissimo in effetti Però faccio attenzione Che se lo attiviamo Non abbiamo più il potere di attacco Però Possiamo attaccare Mentre siamo invulnerabili Non è male Non è male L'invulnerabilità Mi farebbe comodo Tipo per sempre Posso averla per sempre Ok Adesso che abbiamo i super poteri Cosa potrebbe mai andare storto Mi trovo un nuovo boss assistente Allora No No Quasi sono i gelati Ok 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 Montagne russe Sulle montagne russe Ci si diverte sempre Ok ok Dai Andrà bene Andrà bene Andrà bene Me lo sento Capet Capet staciola Perché c'è Cos'è It It Che fa No signore No 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 Aspetta non è che salta Aspetta Aspetta Ah che stronzo Ma no Ma no Ah ah Aspetta Sta cercando di imparare a guidare Aspetta che c'erano anche le Papperelle Ok ok Sto stronzo già non lo sopporto più Facciamo così che lo schivo No vabbè dai Ok Inizio un po' traumatico assistente Ok l'assistente mi ha fatto notare che ci sono le paperelle No vabbè dai Aspetta io le paperelle è quasi in automatico secondo me No mi miro sempre il signore Ok 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 Ho capito adesso Più o meno ho capito Più o meno Lei prenda le pa Porca Paperella Io ce l'ho con le paperelle Mi sta nessuna Aspetta 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 Lo attacco da dietro a questo punto Quando lui Se non mi va troppo indietro Aspetta Aspetta Anche a me Mi ha fatto tanto tanto male Ok Cioè se già ci facciamo così tanti male con la Con la prima trasformazione Non ce la farò mai Voglio essere onesto Non ce la farò mai Come fa Ok ce l'ha fatta Assistente ce l'ha fatta Ma io sono da solo Vabbè La sua solitudine è differente Cos'è No vabbè Ci sono i cagnolini C'erano anche i cagnolini Con i palloncini Belle queste nuove mappe Assistente Assistente disperato male L'assistente disperato male 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 Non ci sono Meglio della cioccolata Preferivo il mondo di prima In effetti Ok sto riuscendo a non fare schiferrimo Il che è tutto un dire Ah Il signore sta arrivando Aspetta Aspetta Facciamo così Ma ha morso il cane Ma ha morso Il cane maledetto Aspetta Aspetta Cosa Non capisco È accaduto di tutto È accaduto di tutto Aspetta che c'erano i cani Che mi mozzicano il culo Sì vabbè Sì vabbè Boni Boni Arriva Frappuntino arriva Aspetta Aspetta Ok montagna Russa di stacciola Non è così male Aspetta Ok 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 Aspetta Ah merda Ho fatto la minchiata Aspetta 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 Ok Ok Sono morto io dopo Non lo so Sono morto mentre salvavo lei C'era un cane che mi ha mozzicato il chiurlo Sono sicuro che riuscirà a sconfiggere Questo è simpaticissimo Io dicevo per dire assistente Lei mi fa fare brutta figura Ok Ah Cos'è Ma cos'è Ma è a cavallo di un mulo Un ciucco No questo è impossibile Assistente non pianga Se tiri sul moralo Non ci sono No Onestamente È stronzo Onestamente È stronzo Guardi siamo qua Che registriamo da solamente Un'ora e quaranta Cosa potrebbe mai accadere Di peggio di così Quindi abbiamo da registrare altri No no Dai Almeno questo lo possiamo finire Si fidi Lo so Lo so Lo so Abbiamo scoperto che se non parlo Riesco a fare un po' meno minchiate Ma non Aspetta 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 Ok Il mio ciucco è di pera Cos'è Cosa fa No quello spara adesso Aspetta 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 Ho fatto un po' di minchiate Un po' di minchiate Ma non troppe Da giusta quantità di minchiate Eh sì Certo Eh sì Certo Arriva il codo Per un po' Aspetta Per tutto che mi colpi Due ore spazza dietro Spazza dietro Arriva Sì Ok 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 Aspetti No Aspetta No venga qua Venga qua Assistant Assistant Salvato Salvato Eh ok Ok non so come l'ho salvata Ah 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 Ok Ok aspetta Vado di attacco Oh no Ho solo l'invulnerabilità Ah salvami Aspetta 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 Non sei più invulnerabile Non sono più invulnerabile Vero Però abbiamo testato l'invulnerabile Come me Hai messo malissimo signore Ok Ok sei morto Sono morto Ce la può fare Assistente Non sono morto Ma non importa Ce la può fare Ma non mi è mai piaciuto It Cos'è No è diventato angosciante Ok Direi che dobbiamo Andarla sopra Ok non uscita la mappa Questo è difficile Secondo me eravamo E non era male E non era male E non era male Però angosciante Però tanto tanto angosciante Ce la facciamo Assistente A fiducia Nel suo youtuber preferito Fabi Jay Andiamo avanti Cambiamo assistente Se facciamo così Non è male Sa che non è così semplice Oh io ormai continuo a saltare in continuo Fotte Sega Tanti miei colpi sono differenti No Cos'è? No Non so I pinguini I pinguini di stacciola Non ci capisco più Nacciola No Cos'è successo? Sul finale non ci ho capito più niente Avanti assistente Altri 15 minuti Prima che riusciamo ad arrivare a questa parte No è una bellissima domenica Abbiamo cominciato che era mattina Fuori adesso risplende la luce della luna Ho fame Anch'io Stiamo morendo di fame E di imbarazzo sociale Assistente abbiamo un HP Abbiamo un HP Dobbiamo arrivare alla fine Ce la possiamo fare E cadenevo i cosi Ok 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 Il nostro gameplay è stato letteralmente 10 minuti di totale mutismo Per chi se lo domandasse No sto qua è stato troppo bastardo Troppo bastardo Ok È stato divertentissimo assistente Voi vedete la faccia dell'assistente Dopo più di due ore che stiamo facendo sta partita E questo era Beppi the clown Beppi è un nome Per l'altro friulano barra veneto Che vuol dire Giuseppe Dove va Ah vuole sicuramente fare un'altra missione In cui trova le monetine No spio in due Cos'è Petty Petty Vediamo se qualcuno ci regala monetine in giro Signora lei mi regala monetine No mi regalata una malattia venere Vabbè non importa Mi è stato fatto di un drago No no non entro No 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 Direi che per oggi abbiamo fatto anche abbastanza Vi abbiamo saltato un po' di parti Perché vi giuro Non ne potevamo più neanche noi No no Guardi Mi metto qua con qui Con qua triste triste pure io Eh Anche lei Eh ok dai E questo era un altro trauma No Cap è sempre peggio ragazzi Cap è sempre peggio È stato traumatico No no non si può Cioè Dark soul lo comprendo Cap è vuol dire essere un grandissimo stronzo Sviluppatore maledetto Ma io direi che per questo meraviglioso E divertentissimo episodio di Cap è tutto Quindi lasciate un bel mi piace Per continuare la serie No 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 Fefe Non lasciate mi piace Non continuiamo la serie Acqua Questa è una scena classica scena Dove tutto diventa grigio Ah E loro ti vedono morire Ah no Vorrei morire prima dell'auto Non ho fissato in finale Dicevo Allora mettiamola così No facciamo così Se veramente lasciano tanti mi piace Mi faccio un terzo episodio Anche da solo Comandando il controller Che vibra Con i piedi No più o meno Ok non ingeggiamo troppi handicap Ma non fatelo ragazzi Siate magnanimi Niente mi piace In questo episodio Ok facciamo entrare L'episodio in tendenza Perciò condividetelo dappertutto E io giuro Glielo faccio fare veramente Ok se Cap Faccio fare una partita Va bene ci sto Se Cap va in tendenza Terzo episodio Ok Buono Con un bosta solo Per almeno i primi dieci minuti Così bestemmi per me Si sente se ne vada A mangiare una pizza Ma Bene Io direi che per questo episodio È tutto E ciao ciao